Per quanto si riferisce poi alla manifestazione, ricordo a tutti, il percorso è lo stesso dell'anno scorso, partenza da Piazza Duomo alle 21 precise, dove davanti partirà la parte agonistica e dietro la parte non competitiva. Ringrazio davvero la città per l'accoglienza che come al solito vorrà farci, tutti in piazza, per una bella serata notturna di San Giovanni, 77esima edizione. È un evento meraviglioso, spettacolare, si corre in una cornice unica, ad un orario unico. L'appuntamento è per le 8 e mezzo, per partire alle 9 di questo sabato, tra il Duomo e il Bacistero. È una corsa ormai giunta alla settantesima edizione, è una corsa che per tradizione si svolge l'ultimo sabato, prima della festa del Santo Patrono, appunto San Giovanni, che dà il nome alla corsa stessa, e sarà un'occasione per tutti, perché le distanze saranno due come al solito, una più agonistica, la 10 km, una più femmine, la 4, per partecipare e per vivere insieme, una bella serata d'estate, attraverso lo sport, nei luoghi più belli della nostra meravigliosa città.